Ah, ma Roman Reigns è cattivo, è ill! Picchi a tutti! Allora ragazzi, scherzi a parte, Roman Reigns è tornato a Summerslam dopo il main event, l'abbiamo visto, ha attaccato sia Strowman che The Fiend, li ha demoliti, aveva una bellissima maglietta, distruggi tutto e vattene, e quindi molti hanno ricondotto la sua figura, le sue azioni e anche il suo outfit alla Retribution, e soprattutto ad un potenziale o possibile Tornil già venuto. Quindi in questo video vi darò la mia chiave di lettura su quanto successo e sul futuro del Big Dog, perché, come sappiamo, è già stato annunciato per Payback un triple threat match tra Strowman, The Fiend e proprio Roman Reigns. Molti si sono lamentati perché hanno detto, ah, basta arrivare e picchiare qualcuno per ottenere una title shot. No, perché lui aveva il match titolato a WrestleMania, poi non l'ha avuto, anche se aveva già firmato il contratto contro Goldberg, quindi è giusto che venga reinserito in questo modo nel giro della cintura universale. Allora, prima di tutto, Roman Reigns è un heel? Non lo posso sapere, ma giudicando le azioni compiute a Summerslam potrei dirvi ni, perché mi sembra il classico Roman Reigns oggettivamente, a parte appunto la maglietta che vestiva e quanto era incazzato, ma ci sta a essere incazzati dopo una pausa di mesi e dopo non aver potuto competere all'evento più importante dell'anno della federazione, ovvero Vrestelmania 36. Poi se buttiamo un occhio al passato, cioè, Roman Reigns ha sempre sfasciato tutto e tutti. Al cui dicevano, eh, Roman Reigns non mi piace, è il classico babyface pusciato. Vi ricordate la faida con Strowman? I vari tentativi di uccidere Strowman, ha fatto esplodere un'ambulanza, lo ha sballottolato da tutte le parti, lo ha massacrato con qualsiasi oggetto, beh, bella azione per un babyface, mamma mia. E infatti non ho mai ritenuto un vero face, Roman Reigns, o meglio, sì, è un buono perché ha un grande legame col pubblico, però anche dopo aver distrutto l'Undertaker Avrestelmania, al giorno dopo si è preso una valanga di fischi e ha detto, uè, oh, questo è il mio giardino, questo è il mio cortile, questo è il mio parco giochi, ormai state zitti e ciucciatemi le scarpe. Però è vero, nel periodo storico in cui siamo, e soprattutto con questi svariati attacchi della Retribution, che tra l'altro alcuni membri sembrano essere stati identificati, oltre a quelli vecchi che avevo già citati in un video, ovvero anche da Jakovic, perché fisicamente era lui, la pose era la sua, e sembrava proprio atleta di NXT. Il punto di domanda più grande è perché Roman Reigns ha bisogno di una stable del genere per tornare e ottenere quello che vuole, se è già tornato e ha già ottenuto una title shot? Eh, non lo so, magari non c'entra niente con la retribuzione, a meno che sia un throwback alla leggendaria stable dello Shield per il casino, la distruzione, e perché effettivamente lui, rispetto a Ambrose e Rollins, è sempre stato quello che faceva al lavoro sporco più che parlare, o comunque il più carismatico, anzi, anche se è migliorato parecchio con gli anni, non è mai stato una cima per quanto riguarda i promo o altro, ma ripeto, adesso si fa rispettare, eh? Però chissà, perché come per John Cena c'è sempre stato questo meme del tournil, quando diventerà cattivo John Cena? Quando diventerà cattivo Roman Reigns? Eh, magari ci sono arrivati, magari hanno deciso di far cambiare allineamento all'uomo di punta, perché non c'è bisogno di un uomo di punta al momento, visto che comunque hai Mackint, hai Ray Rollins, hai Kevin Owens, hai Bray Wyatt, insomma, hai un sacco di atleti su cui puntare che vendono un macello e non ti serve più l'uomo copertina che deve essere per forza quello buono, coi bambini, simpatico, bello. Oppure se ne fregano e basta, perché comunque nell'era della tecnologia, dei social, di Instagram, di Facebook, della vita privata esposta di tutti sul web, sappiamo che un cattivo onscreen non sempre è un cattivo offscreen. Molti sono dei veri pezzi di pane, anche se spesso i migliori mantengono il personaggio anche fuori dal ring. Però potrebbe esserci anche quel ragionamento, dire ok, la gente vuole Roman Reigns cattivo, diamogli Roman Reigns cattivo perché tanto fuori può continuare a fare le sue robe, anche se coi bambini è vero, potrebbe fare molta meno presa. Per chi è fortunato dal credere nella magia del wrestling, quanto vi invidio voi più piccoli, mamma mia, siete veramente baciati dalla fortuna. O ancora far leva sull'odio costante che c'è nei confronti di Roman Reigns, o almeno adesso un po' meno, ma sappiamo che durante la sua carriera è stato più fischiato lui che Donald Trump in un ghetto americano. E allora dire ok, embrace the hate, come era il motto di John Cena, abbracciamo l'odio e lanciamo Roman Reigns al macello. Però sono sicuro che un Roman Reigns ill, o comunque cazzutone distruttore come era finora, verrà apprezzato parecchio dalla gente, specialmente se dovrà menare le mani e stare zitto. Non sappiamo come andranno le cose da qui in avanti, lo scopriremo già venerdì a SmackDown, presumo, e anche da come si comporterà nel match titolato di Payback, è che le sediate e i danni di Braun Strowman sono qualcosa da vero e proprio ill, ecco, quello sì, rispetto a menare chiunque o fare spiera a destra e a sinistra. Sono sicuro che se dovesse essere veramente un antagonista, la sua carriera ne gioverebbe parecchio e offrirebbe non solo a lui, ma anche a tutta la WWE, o almeno a SmackDown, nuova linfa, linfa vitale. E poi c'è stato anche uno scambio interessante con Randy Orton sui social, molto divertente anche, perché Roman Reigns ha detto a Orton, ah, tutti parlano di me, anche se tu ti sei proclamato leggenda, hai fatto il tuo match con McIntyre che hai perso, andate a vedervi i social di Reigns e Orton, soprattutto il paragone cavallo Roman Reigns, è una roba fantastica, una roba fantastica. E le voci di corridoio che circolano a parte di questo presunto tornile è di dargli la cintura subito, cioè rischia veramente di vincere la Payback. Onestamente io la prima cosa che farei è far perdere, se dovesse essere il, è far perdere quella benedetta valigetta a Otis, perché Otis è oggettivamente il face più face che hai, simpaticone, bonaccione, che ha la storia eroica da raccontare, prima conquista Mandy Rose, poi conquista il contratto per l'opportunità titolata, distruggi il suo sogno con un Roman Reigns, il sta incassando, arriva Roman Reigns e lo fracassa di mazzate finché non lo fa volare via come un palloncino bucato. E lì sarebbero veramente grandi rasponi, ma non lo so, so solo che è una figata come è tornato Roman Reigns, mi sono emozionato, non me lo aspettavo, grandissimo, grandissimo, big dog, grande WWE per una volta al team creativo, ha sviluppato qualcosa di figo, no non per una volta, si sghè, mi dissocio, però ultimamente non era molto ispirato invece adesso a delle belle storie da scrivere. La cosa che non vorrei mai vedere è un Roman Reigns codardo, il vigliacco come un Baron Corbin per esempio, cioè arrivati da due schiaffoni, ti fa girare la testa come i giocattolini dei Power Ranger quando schiacciavi il bottoncino sul petto e corri a piangere tra le braccia di tua madre, non che fa i roll up tenendosi per le corde, tenendo i mutandini o usa espedienti sporchi per vincere. Cioè in quel caso mi verrebbe veramente voglia di inchiodarmi gli alluci sul pavimento e fare la mossa inclinata di Michael Jackson. È un'immagine terribile, lo so, però dai, Roman Reigns, il codardo. Roman Reigns che ha fatto tutta la sua carriera a urlare a destra manca e a sfondare il cranio di tutti con i pugni di Superman e le spiar che mamma mia ti divide a metà come l'anello di Xena. Quindi per favore, cioè, è il, va bene, lo stereotipo dell'Ile però non è solo The Meats, per esempio, che a lui sta benissimo come personaggio, ma a uno come Roman Reigns, no, assolutamente no. Cioè vorrei qualcosa tipo lo Strowman di qualche anno fa, proprio in Fida contro il Samoano, che arriva a mamma mia e ti dà una cartella e gioca a Shanghai con le tue ossa, fa lo xilofono con la tua colonna vertebrale. Grazie a tutti per essere passati dal vostro Certified UI, è come al solito tutto e noi ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!